E il potere del sole E il palmo della mia mano Guarda che bella, guarda che bella Come venivano pubblicati i manga in Italia una volta Così ragazzi, belli, grossi Brossurati, giganteschi, guardate qua Oh ma c'è la data qui Qua sotto Se la webcam andasse pure a fuoco mi farebbe un gran piacere Ma a quanto pare si rifiuta Febbraio 1995 5000 lire Prima si pubblicavano così i manga La vecchissima edizione, questa è la prima edizione italiana Mamma mia che bello, che bello Che bello Quando si facevano i manga così Che ficata A parte è bellissimo proprio il manga Secondo me in generale è bellissimo Ma fichissimo anche soltanto adattare i manga così Mamma mia Con le onodopee tutte rifatte in italiano Tutti i testi rifatti a mano Che bello Pure più facile da sfogliare Beh sicuramente Molto molto meglio in questo formato qua Arribaltati E ovviamente Quindi pubblicati da sinistra a destra Perché poi all'epoca Ma insomma Chi lo sapeva Come se doveva leggere un manga Non aveva senso Pubblicarli da destra a sinistra Ah e poi qua appare Il male La morte La distruzione Che si è vista un po' nell'anime Eh Anzla Saks Il dio distruttore del passato Che bello Che bello Questo era un modo super comodo di leggere i manga E questo era pubblicato da Granata Press Che ha un po' diciamo Portato in alto il vessilo dei manga In Italia Per qualche anno Dalla loro fondazione Insomma un po' dopo in realtà Perché Proprio in questo periodo Qua siamo già nel 1995 Ma proprio in questo periodo La casa editrice Fallirà Per poi lasciare spazio A Star Comics Che Nello stesso Tempo Si stava già dando molto da fare Star Comics dopo aver Ceduto I diritti dei supereroi Marvel Si concentrerà tantissimo sui manga Diventando Un editore molto molto potente Effettivamente Però Bastard Invece Finì nelle mani di Panini Che all'epoca In una maniera A spina di pesce Così così Molto molto piano Lentamente Comunque si stava dando da fare Nel settore dei manga Stava cominciando a pubblicare cose Infatti La loro prima edizione italiana Fra l'altro guardate che formato molto unico E particolare È datata a marzo 1998 Costava 6500 lire Però già Con una certa qualità Stiamo parlando di un volume Con la sovraccopertina Bello Editato bene Curato Una roba figa Insomma I font Sono ancora A mano Si tratta Della fine degli anni 90 Però ho stampato Con il senso di lettura Originale Ormai dopo qualche anno Si era capito Come si dovevano stampare I manga E anche come lavorarli E anche come lavorarli Molto 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 bello Super simpatico Ecco Bastard c'è da dire una cosa Nel grande mondo Delle pubblicazioni A fumetti Giapponesi Bastard è un po' Un unicum È un po' Una di quelle cose Diverse Dal resto Delle pubblicazioni Perché Ogni tanto Dentro ci capitava L'autore Che raccontava Delle cose Ecco tipo qua In queste pagine Sta accadendo Insomma Una roba Si sta raccontando Delle cose E poi a un certo punto Appare letteralmente L'autore Con un fumettino Dove racconta Quello che fa Insomma Mentre lavora A Bastard Oppure anche All'interno Della storia stessa Tipo qua Ho avuto la fortuna Di svoltare pagine E trovare Effettivamente Quello che volevo mostrarvi Qui nello spazio bianco L'autore ci metteva Dei messaggini Ecco Vi ringrazio Dei cioccolatini E delle gomme Per cancellare Tutto così Tutto così Bastard era tutto così Un fantasy Dissacrante Speciale Unico Bellissimo Per il fatto Che l'autore Era sempre Presente All'interno Della storia Questo lo faceva Sentire Davvero Vicino Ai lettori Questa è una Componente Secondo me Molto importante Perché Ti rende Uno in mezzo Agli altri Anche se tu sei Un autore E in questo caso L'autore Del fumetto Che la gente Sta leggendo Anche se Naturalmente Solo con molto Ritardo Si può avere Una risposta Con i manga Non è Come qua Su twitch Io vi parlo E voi subito Immediatamente Mi date la risposta Però comunque Di grande Poi Di grande pregio E valore Poi Dopo questa edizione Ne faranno un'altra E un'altra ancora Per Insomma Guadagnare Qualcosina in più A Bastard Da questo Epic fantasy Molto particolare Con Addirittura Anche le Classi tipiche Di Dungeons & Dragons Ci sono il paladino Il chierico Il ladro Le samurai Ci sono Tante cose Molto divertenti In Bastard Da leggere Effettivamente A un certo punto Trova una sua Dimensione Nuova Diversa E si sposta Verso Un racconto Più Demoniaco Ma roba Tipo Invasione Invasione totale Mostri Dappertutto Demoni Lui Assume anche Delle caratteristiche Diverse Poi cambia tantissimo Il disegno C'è da dire Che si evolve In una maniera Pazzesca Si scopre tanto Sul mondo Di Bastard Sul passato Si vedono Tante cose Fiche Le copertine Diventano sempre Più belle Effettivamente E sempre più Porche C'è da di Per poi Arenarci Completamente Perché questo È l'ultimo volume Uscito Il 27 Nel settembre Del 2012 Se aspettavo Un altro po' Facevamo L'anniversario Dieci anni Tondi tondi Sono dieci anni Che non esce Nulla Zero Zero Morte Eh no Questo non lo posso Far vedere Che posso Far vedere Non c'è Non c'è Niente Che posso Far vedere Che posso Far vedere Mamma mia Allora ci sono Dei capitoli Estremamente Ricchi Di dettagli Che sono difficili Da mostrare Ah no Questa si può Far vedere Sì Direi di sì Questa Forse questa E anche meglio Vorrei farvi capire Il livello Di Di arte Che si raggiunge In questi Capitoli Cioè Ho fatto vedere Delle pagine Prima Guardate qua Dieci anni fa Come disegnava Kazushi Akiwara L'autore Cioè Ragazzi Siamo arrivati Proprio Proprio Da un'altra parte Totale Cioè È Incredibile Veramente Strepitoso Ci sono anche Gli entai In realtà Di Bastard Entai Ufficiali Fatti Dallo stesso Autore Che si chiamano Expansion Giustamente Quando si tratta Di entai Alcune cose Si espandono Alcune cose Si ingrandiscono Eccolo qua Pubblicato in italiano Purtroppo Non sono Tutti i racconti Porno Di Bastard Ufficiali Non sono tutti quanti Perché Mi sa che Questo raccoglie Soltanto I primi due Ma ce n'è un altro E Purtroppo Non è presente Fra l'altro Deve essere stato Un lavoro Assurdo Secondo me Perché questa roba qua Kazushi Akiwara Con il suo studio Lo studio Loud in school Li hanno pubblicati Ma come Ma come se fa Al comicket Come se fa Con Le dojinci Non ufficiali Cioè Hanno fatto L'albetto E l'hanno Portato in fiera Cioè proprio Matti Da legare Fuori di testa Non è che L'hanno fatto Su una Rivista Perché poi Shueisha Perché vi ricordo Che Bastard Un fumetto Che veniva pubblicato Su Shonen Jump Non è che Shueisha C'aveva Lo spazio Per mettere Sta roba Beh lui Di tutta risposta Ma si Ma sti cazzi Ma mo faccio il porno Lo metto Da qualche parte Tanto qualcosa si fa Qualcosa si fa Ecco Questa è l'unica roba Che vi posso far vedere Almeno un culetto Toccato Ma sempre bene Non di più Perché purtroppo È proprio porno Non posso far vedere nulla Zero E Ancora più Purtroppo Non è nemmeno Completo In Giappone Avevano fatto Anche un altro Albetto Eh sì Eh sì Veniva pubblicato Su Shonen Jump Sembra Sembra Talco Ma non è Invece è proprio Polvere E io infatti Da bravo Collezionista Diciamo Per non dire Azzeccato di merda Ho il Primissimo capitolo Di Bastard Pubblicato su Shonen Jump Questo è Weekly Shonen Jump Numero 47 Del 1987 1887 E qui troviamo Il primissimo capitolo Di Bastard Dal titolo Wizard Il mago Delle fiamme Tra l'altro Diciamo Questo frontespizio Ricorda La copertina Di un album Metal Ma un po' Come tutto Bastard In realtà È tutta una serie Di citazioni Al mondo Della musica Rock Potentissima Del metal Fantastico Veramente Incredibile L'inchiostro Sì È un po' Consumato D'altronde Si tratta Di un volume Di tantissimi anni fa Ma Più che altro È semplicemente Dovuto al fatto Che Sono delle pubblicazioni A risparmio Le riviste Giapponesi Qualsiasi tipo Di rivista Giapponese Che ti ritroverai Tra le mani Insomma Ti potrà Far notare Che Sono stampate Malino Insomma Ah Fra l'altro Casualità Vuole Che in questo numero Di Shonen Jump Cominci Anche La seconda parte Di Jojo C'è proprio Il primo capitolo Di Battle Tendency Qua le maschere Il nuovo Jojo È figo Molto molto carino Poi le pubblicità Giapponesi Mi fanno morire a me Ma dentro C'era anche la pubblicità Di Attrezzatura sportiva Ecco qua Ecco Sì 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 Ti cerchiamo Qui Ti diciamo Come devi fare Che cosa devi fare Dove devi comprare L'attrezzatura Sul serio Ti compri pesi Eh Il bilanciere Fantastica Sta roba Il passato Del Giappone Un luogo Incredibile Un luogo Della mente Incredibile Ma c'è anche Un'altra edizione Come vi dicevo Prima Di Bastard A opera Di Panini Oltre a questa Hanno fatto una versione Simile a questa Però Con un po' Di qualità in più Che si chiama Deluxe E dopo la Deluxe C'è la Complete Edition Che hanno fatto Anche in Giappone Dove Kazushi Akiwara Si è un po' Sbizzarrito A ridisegnare Quello che aveva Già fatto Copertine Completamente Nuove Grafica Molto figa Queste sono Delle sleeve Che raccolgono I vari volumi Belli con tutti questi Particolari in oro Si vede addirittura Riflette Il Godox Là di fronte Questo è In emboss Con un materiale diverso Guardate che figo Dei libri Veramente Belli C'è anche Questa bella pagina Sempre con i dettagli In oro Per proteggere Il resto del libro Dalla copertina Così stacca Stacca un po' E poi il manga E quello classico Naturalmente Però Quella è Ridisegnato E più avanti Ridisegna Completamente Le cose Proprio da zero Si mette Ridisegna Ci sono Le pagine a colori Quando Originariamente Erano a colori Su Shonen Jump Figo 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 In questo caso Però Non ci sono Nomotopee Adattate Sono Completamente In giapponese Mamma mia Yoko Bellissima L'amore Il vero amore Oh Qua ci stanno Certe paginone Spettacolari Guardate qua Davvero Pazzesco Questa era la copertina Originale Del primo volume Fantastico Fantastico Io non so Se ce l'ho qua O Se Per qualche motivo Strano E nell'altro Appartamento Ma potrebbe Pure essere Ma io Tanto tempo fa Ho comprato Un artbook Di Bastard Super figo Voglio vedere Se ce l'ho Se sta qua Ve lo mostro E Se no Abbiamo fatto Un buco nell'acqua Ragazzi Stavo Vole Ammazza Pregate per me Pregate per me Oh 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 C'è della magia Qui c'è La magia Ragazzi L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Ho trovato Ho trovato Il vestito Un po' Tratato Motivo strano No spazio Ah ma lo spazio È sopravvalutato Cioè perché Tu dovresti avere Spazio vitale Piuttosto Che comprare Fumetti Perché dovresti farlo Scusami Per me non ha senso Cioè meglio i fumetti È reperibile La complete edition Da qualche parte Penso su ebay Ebay E qualche fumetteria Che c'è un sacco di robe vecchie Puoi trovare delle cose Ehm Prima di farvi vedere L'artbook Che è poi la cosa più cicciosa Vi faccio vedere Questo bel giocattolone Che c'ho Che si chiama Bastard High End Figure Questa è la numero uno Di tutte Quelle che hanno realizzato Che poi sono qua dietro Ci stava anche Dark Schneider Nella sua versione Magin Demone E a un certo punto Diventa proprio Devilman Pazzesco Cioè cominciamo con sto coso Strano Dove Un high fantasy E si deve andare a parà Boh Non si sa bene dove Impedire delle cose Che accadono Poi le cose Degenerano E diventa una roba Dio contro i demoni Follia Veramente Pazzo in culo Tutto fuori di testa Di Bastard Mi dispiace Non avere Le videocassette Dei vecchi O.A.V. Prima o poi Me le procurerò Per avere Diciamo una collezione Completa Quanto più Decente possibile E anche qualche giocattolo Ma Non tutti Hanno questo bel pezzettino Di storia Dell'editoria Giapponese Che è l'art book Che si chiama Bastard Guardress Illustrations Sono due volumi Molto belli All'interno di questa Sleeve di cartone È da un po' Che non li tiravo fuori Perché non c'è mai L'occasione Di farli vedere Insomma Che bello Che belli Sono due libri Uno cartonato Che si chiama Nude E l'altro invece Brozzurato Che si chiama Comic Già da un punto di vista Puramente estetico Parliamo proprio Del prodotto A livello Cartotecnico Sono due cose Distinte Ma molto molto belle Allora Il libro Illustrazioni Con la sovraccopertina Cartonato Assai fico Contiene Tutta una serie Di illustrazioni Molto molto belle Che sono Le copertine Immagini promozionali Cose che ha fatto Con altre aziende Altri lavori Le illustrazioni Che ha fatto Per i romanzi Di Bastard Che comunque Sono stati pubblicati Anche in Italia Seppur non tutti I frontespizzi Dei vari volumi E soprattutto Gli sketch Dei vari personaggi Adesso vi faccio vedere Qualcosina Ovviamente Ha effetto Marmoreo Bellissimo All'inizio Poi c'è Questo Posterone Da aprire Enorme Allora Qua c'è Una recente Illustrazione Recente Insomma Per l'epoca Che si trova Anche Sulla sleeve Di cartone E qua Invece C'è Un'illustrazione Dei vecchi Volumi Eccola qua Fina di fica Proprio Strabordante Da tutte le parti Dappertutto Il che È solo Un bene Ecco Queste sono Tutte le vecchie Copertine Vediamo un po' C'è qualcosa Di più Recente Sì Qua ci sono Le copertine Più recenti Ma le illustrazioni Comunque Sono fantastiche Questo è Frazzetta Pesante Proprio Queste sono Illustrazioni Un po' Più recenti E poi Tante altre cose Che insomma Aveva realizzato Per Per altri Manga Per le storie sue Faccio vedere Queste sono le Illustrazioni Per i romanzi Qui ci sono i vari Frontespizzi Questi sono proprio Belli Questi Purtroppo A farveli vedere Così È un po' Uno strazio Ma Vi giuro Sono Incredibili Io Quando li leggevo Sui volumetti Sembravano Delle Fotografie Già all'epoca E queste sono Illustrazioni Del 91 92 95 Ma Queste in particolare Che Ricordano un po' Anche Fotografie Delle Band Musicali E probabilmente Sono tutte Foto Di band Musicali Che lui Ha riarrangiato Sono Pazzesche Mi dispiace Che le dovete Vedere così Che sono piccole Ma Secondo me Si riesce Ad apprezzare Comunque È un po' Uno strazio Ma Sono Sono Pazzesche Sono proprio Belle Proprio Belle Queste qua Più Dicevamo Tutti Gli sketch Dei personaggi Questo era proprio Figo Come libro Pieno pieno Di roba E in più Oltre Al libro Nudes Come dicevo Ci sta Comic Qua Già proprio Un altro Tipo Di Lavoro Proprio A livello Cartotecnico Un'altra cosa C'è una bella Trama Su tutta La copertina Come potete Vedere Ci sono I risguardi Sempre realizzati Con questa Drama Ci sono Risguardi Proteggono Il libro Dalla copertina E dentro Un paio Di fumetti Ci sono Queste storie Che fanno Un po' Da Prequel A Bastard Sono cose Accadute Prima In un mondo Precedente Sono Day one shot Day one shot Di Kazushi Agiwara Di Quando Si era Appena Professionalizzato Insieme a O meglio Sotto Il mestiere Di Izumi Matsumoto Perché Lui Ha Lavorato Insieme All'autore Di Orange Road Infatti Secondo me Si nota Già tantissimo Nei primi Capitoli Del manga Però Da questo One shot Si nota Ancora di più La somiglianza Con Capricciosa Strada Delle arance No E quasi Magia Johnny Questo È Molto Orange Road Figo 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 Poi c'è Una bibbia Di Bastard Con tutti I personaggi Con tutti Gli eventi Le cose Che accadono Tutto Spiegato I mostri Le magie Tutto Quello Che succede All'interno Del manga Quindi Una roba Veramente Bella 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 Da studiare Una chicchetta Particolare Che non si trova Tanto in giro E ora Veniamo a noi Parliamo dell'anime Di Netflix Troppo forte Molto Molto Simile Al manga Ecco Se qualcuno Si preoccupa Di questa cosa qua Da lettore Dannata Del manga Vi posso assicurare Che è Molto Molto Simile Non è Come lo Avvi di Tanti anni Fa Quindi Tutte le Battaglie Sono presenti E' Estremamente Divertente Come il manga Hanno Integrato Anche Quelle Rotture Della Quarta Parete Tipiche Del manga Ogni Tanto Facendo Apparire Delle Scritte A schermo Ogni Tanto I personaggi Dicono Ma questa è una serie Anime Per ragazzi Non si possono Vedere Queste cose E si autocensura Perché il manga È pieno di porcellate In realtà Si censurava Pure il manga Effettivamente Che comunque Era pubblicato Su Weekly Shonen Jump È una serie Piena di belle ragazze Estremua Qualità Qui si è lavorato A fondo Ragazzi Qua si è studiato Qua ci Ci si è impegnato Si è dato anime Corpo A queste cose Mamma Mamma Allora Il Design Dei Personaggi È molto semplice È difficile Riuscire A dare Uno stile Di Bastard Perché Bastard Un po' come Berserk Si è Trascinato avanti Per tanti anni E inevitabilmente Lo stile Dell'autore È cambiato Tanto Tantissimo Se voi guardate Bastard Prima maniera E ultima maniera Come vi ho fatto vedere Dal manga Sono due cose Totalmente diverse Quindi non c'è Uno stile Effettivamente Che possa Riassumere Bastard O pigli Il vecchio O pigli il nuovo O pigli uno Di mezzo Ma in ogni caso Non riesce a darti Una summa Quindi è stato Inventato Un design Molto pulito Molto chiaro Come ormai Si fa Da tanto tempo Per riuscire A caratterizzare Al meglio I personaggi Sono Molto morbidi Ci hanno dei tratti Anche quando sono Duri Estremamente Piacevoli Da vedere Ci sono le armature Fichissime Ci sono Tutti i vari personaggi Che hanno anche Delle sopracciglia Molto Molto uniche Disegnate Spicolose I capelli Spicolosi Però Riescono Ad ammorbidire Molto Il tratto Qua e là Con gli occhi Soprattutto Nelle ragazze Sono tutti occhi Molto grandi Tondeggianti Poi le tette Molto rotonde I culi Altrettanto Sono personaggi Davvero Esteticamente Piacevoli Da guardare E poi Caratterizzati Bene Il protagonista Divertentissimo E proprio Fuori di testa Convinto Di potersi Scopare Tutto il genere Umano Però poi Non lo fa Perché È innamorato Di una sola ragazza Ovviamente E quindi Nonostante sia Un donnaiolo Non puccia mai Il biscotto Perché È innamorato È incredibile Sta roba veramente Figa 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 E È un modo Catchy Per acchiappare Il pubblico Ovviamente Utilizzare questo stile Di disegno Piuttosto Che quello Che Voglio dire Anche più recente Dell'autore Che è estremamente Ricco Molto Particolareggiato Ci sono I capitoli Realizzati A metà degli anni Novanta Che sono Un tripudio Estetico Della Spigolosità Tutto 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 Rettangolare Quadrato Volti Squadrati Occhi Affilati Capelli Che sembrano Quasi Delle lame Però Tutto questo Poi ha lasciato Spazio A un altro Stile Che l'autore Ha maturato Nel tempo Quindi come vi dicevo Prima Alla fine Pick one Vediamo Qual è quello Più interessante Da utilizzare Quello più bello Ovviamente In un anime Come questo Dove si predilige Cercare Di far arrivare Il pubblico Anche in maniera Trasversale Si punta A una certa Rotondità Che comunque Non guasta Effettivamente Si poteva fare Di più Nel design Però C'è anche Da tener conto Del fatto Che si va sempre A risparmi Ormai Con gli anime Ci sono Un paio di scene Dove effettivamente I disegni Dei personaggi Non sono proprio Fantastici Però sono quelle Classiche inquadrature Da lontano Dove non si vede Tanto bene Il volto Del protagonista Quindi va bene Così Per il resto Effetti speciali Con la magia E animazioni Proprio nel senso Di fluidità Tutto perfetto Tutto giusto Effetti speciali Fantastici Sangue Affiotti Ragazzi Mamma mia Ci sono proprio Le pozzanghere Di sangue a terra Ci potresti fare Il bagno Per quanto ne lasciano I nemici I protagonisti stessi Che perdono Braccia Poi se le ricuciono Oppure gli ricrescono Magicamente Succedono cose Assurde Comunque dal punto di vista Della violenza Non si lesina E tutto come Nel manga Forse Con meno dettagli Naturalmente Cioè E meno truculente Nel senso Non vedi proprio I pezzi Del corpo Che si sfaldano Gli organi Che saltano via Le ossa Quello no Però vedi il corpo Che si disfa Cioè Un imbrattamento Di sangue Pazzesco Colonna sonora Molto solida Molto bella Si passa dai Classici momenti Medievaleggianti Quindi Gli eki Che si chiama Che si chiama Regno di Metallicana Una palese Citazione Metallica Oppure Il primo nemico Che affronta Dark Schneider Si chiama Osborne Come Ozzy Osborne È tutto così È Dark Schneider Stesso Che È anche lui Una citazione Audo Dirk Schneider Quando parla Io ho adorato Questa cosa Quando parla Ogni tanto Tira fuori pure Gli urli Tipici Dei cantanti Metal E ho goduto Come un pazzo Mamma mia Che bello E anche Nel doppiaggio Italiano Hanno mantenuto Questa cosa Ragazzi Ma è la fine Del mondo Il doppiatore Italiano È bravissimo Fra l'altro Io Non lo conosco Ma io Gli vorrei fare Tutti i miei Più sinceri Complimenti Perché È incredibile Vediamo un po' Bastard Netflix Vediamo i doppiatori In italiano Merita veramente Un botto Cioè io Ho detto No ma Sai forse Non è tanto Fantastico E invece Ragazzi Sono rimasto Stupito Il doppiaggio italiano È stato criticatissimo Secondo me Al pari dell'originale Ma pure Secondo me Ma pure Secondo me Ma chi L'ha criticato Ma chi Sono Sti matti Ma sono Dei matti Io Non lo so Vediamo la lista Di doppiatori italiani Omar Vitelli Per Dark Schneider A lui Vanno tutti Complimenti Perché è stato Bravissimo Nell'essere Estremamente Giapponese Perché proprio Io Mi sono messo A sentire pure Le puntate in giapponese Ho detto Fammi vedere come L'hanno doppiato Perché Ho detto Ok In italiano mi piace Fammi vedere come L'hanno doppiato in giapponese Ed è Identico Ma fatto in italiano C'è stato C'è stata Un'attenzione Del direttore del doppiaggio Che è Simone Marzola Che ha fatto un lavoro Incredibile Ma non c'è niente da dire Veramente Forse Il primo episodio È quello un po' più Sottotono Dal punto di vista Del doppiaggio Perché si vede Che stavano tipo Carburando Ma già dal secondo in poi Si vola E si vola solo in alto Cioè È Veramente Incredibile Non so perché Si sono Di cosa Cosa hanno Da lamentarsi È veramente Incredibile Vabbè C'è posta che uno è un purista E dice No meglio il giapponese Vabbè Ma che te frega Ma su Netflix C'è il giapponese È apposto così Per me Doppiaggio italiano Si mangia Quello giapponese Almeno 5 a 0 Davvero fantastico Perché Allora ci sono Ci sono Più tipi di personaggi In In Bastard Sono tutti diversi Tra loro Ci sono le ragazze Che fanno le vocine Perché vengono In qualche modo Circuite Da Dark Schneider Pure se Dark Schneider Non fa niente Le ragazze Rimangono Si imbaghiscono Del personaggio Fanno tutte quante Quelle vocine Sexy Particolari Ma non devono Esserlo tipo Troppo Non devono Fare la voce Da troia Capiamoci E le doppiatrici Sono tutte brave Lo fanno tutto Perfetto Perché sono tutte Fra l'altro Nuove al mondo Del sesso Sono tutte vergine All'interno Di Bastard Quindi non è che Possano fare la voce Da troia Non sarebbe Adatto E allora E allora Fanno tutte queste Vocine Un po' Contenute Però Con tanto Piacere Che sono Perfette Ma sono Incredibili Lui Che ogni tanto Quando parla Urla E fa proprio Proprio L'urlo Da metal Da cantante metal Fuori di testa Fa super ridere Tutto Pazzo Poi riesce anche A prendersi sul serio Nei suoi momenti Nei suoi momenti Giusti Dove c'è da parlare Della trama Spiegare Le cose della trama Non ce ne frega Assolutamente niente Perché vogliamo vedere Le belle fiche Però A posto così Capiamo pure Che cosa succede All'interno di questo mondo Diamo un senso Al racconto Di Bastard E si riesce Ad arrivare Ad un momento Dove i doppiatori Italiani Che ne so Del re Di Metallicana Oppure Il primo ministro O anche Il narratore stesso Molto Molto calato Nella parte Poi ci sono i personaggi Cattivi Tipo Abigail Fatto da Massimiliano Lotti Bravissimo Riconosciuto subito Quello bravissimo Oppure anche Kalsu Se non anche Pure Diamon Che sembra Uno dei Kiss Per come È truccato Perché Diciamo Tutto musica All'interno di Bastard Lo sto dicendo All'inizio Sono tutti fantastici Tutti perfetti Belli Seri Calati nella parte Che bello Che bello È la La doppiatrice Di Arce e Snei Che veramente Spacca i culi Si chiama Anna Charlotte Barbera Sta Voce Incredibile Poi rotta Dalle lacrime Nei momenti Di tristezza Per via del passato Con Dark Schneider Durissimo Ma quando sta Con l'armatura Fa quella voce Proprio Grossa Che tu dici Mamma Ma quanto è grossa Sotto l'armatura Cioè Io lo so Naturalmente Quanto è grossa È uno stecchino Perché ha le tette Grossissime È una bellissima donna In realtà Però coperta Da tutta l'armatura Grossa Ma quando Parla Fa un vocione Incredibile Troppo bello Io dicevo Ma questo è proprio bravo E poi quando si toglie L'armatura Bombata E si vede che lei È l'imperatrice Del fulmine Arshes Nei Sorpresona Con questa voce Delicata Però comunque Forte Ma proprio Bello 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 Ragazzi Incieniente da fa E Hanno lavorato Stra bene Cioè io ho detto Ma secondo me Hanno fatto una cagata Invece Hanno lavorato Proprio Bene Di tutti i prodotti Netflix doppiati Che non mi fanno impazzire Questo qua Giusto il primo episodio Deve carburare Ma poi Sborrificante Ti diverti un botto Guardi le puntate C'è solo da ridere Divertirsi Poi Ma scorrono Con una velocità Impressionante Ragazzi Ma noi Ci siamo visti le puntate Ci siamo visti Dieci puntate In un pomeriggio Pu 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 Ma dritto Peccato che Sono solo tredici Si arriva A un certo punto Della serie Che ovviamente Lascia l'acquolino In bocca Perché ti fa pensare E mo come continua E poi Dobbiamo aspettare Ormai In Giappone Quando fanno queste cose Fanno sempre First core Second core Third core E io devo aspettare Gli anni interi Per vedere Mannaggia Però Entro fine anno Dovrebbero arrivare Le altre undici puntate Per Per chiudere Almeno Questa parte La serie Come finirà Considerando che Il manga Non ha un finale E chi se ne frega Cioè Intanto ci divertiamo E si va avanti Ma non è bello Perché non ha un finale O ha un finale È bella l'esperienza È bello Il divertimento È bello Vedere La serie Cioè Dopo tanti anni Rivedere Bastard Per me è stata Un'emozione Da fan Incredibile E poi Vedere Quello che Si poteva Fare Con la Tecnologia Di oggi Era Pazzesco E secondo me Non è neanche Una brutta scelta Quello di utilizzare Un disegno Meno carico Rispetto A quello che L'autore Ha utilizzato Poi Nella metà Degli anni Novanta O meno dettagliato Rispetto a quello Che ha usato Negli anni 2000 2010 Cioè Si vede proprio Che i mostri Sono pensati bene Sono quelli Classici Di Dungeons & Dragons Però Rielaborati Dalla mente Dell'autore E ancora più Rielaborati Poi Da Liden Films L'azienda Che si è occupata Di animare Questa Questa parte Di Bastard Sono colorati Benissimo Mamma mia I colori Pure dei capelli Dei personaggi Sono veramente Fantastici È una cosa Che mi ha colpito Tanto vedere Le capigliature Di tutte le ragazze Che ognuna C'ha una capigliatura Diversa Che hanno le giuste Sfumature Se ci hanno le punte Un po' più rosse I capelli Biondi Però con un po' di rosa Dentro Vabbè Queste cose strane Oppure i capelli Blu Però che devono Tendere un pochettino Al grigio Fantastico Veramente fantastico C'è stato un impegno Da questo punto di vista Invitiabile Hanno lavorato bene Le animazioni delle magie Con gli effetti speciali Sono incredibili Le animazioni delle aure Pure sono molto belle Sono aure diverse dal solito Disegnano Una specie di filamento Che appare fuori Il corpo Appena un attimo fuori dal corpo Sono tanti Tanti filamenti Uno sull'altro Che creano questa Illusione Di aura Fosforica Quasi come se fosse fumo Animato Benissimo È un ciclo solo Di animazione È una stronzata Veramente Proprio Proprio la base Dell'animazione Però sono quelle stronzate Semplici Che funzionano Benissimo Quando lo vedi Uscire fuori dal corpo Di Dark Schneider Tutto di rosso E lui si incazza E dice Che cosa avete fatto La mia fidanzata L'avete toccata Pezzi di merda Guardate che io vi spacco il culo Capito E gli esce tutta quest'aura E incazzatissimo Troppo bella E poi Ancora più assurdo Quando gli dicono Sì sì L'abbiamo vista nuda Sì abbiamo vista nuda La tua fidanzata Lo sai Lui no Io non l'avevo mai vista nuda No 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 E piange Perché non l'avevo mai visto Il culo della fidanzata No È troppo bello È Fall Dal punto di vista Del divertimento Secondo me Si ride un botto Dal punto di vista Delle Delle mazzate Sono molto Non truculente Come nel manga Però sono molto Dinamiche Assai Piene Piene Zeppe di sangue A tratti sembra Un film di Tarantino Per quanto sangue Ci mettono In questa serie E soprattutto C'è da dire Che è molto Scorretta È molto Volgare È una di quelle cose Che tipo Sembra essere Sfuggita dal controllo Qualità di Netflix Perché Ma io Ma si dicono Le peggio cose Io mi devo Chiavare a questa Devo acchiappare qui Lamo sopra Lamo sotto Cioè Dici Ma meno male Che sfuggi dal controllo Qualità Facciamo Andiamo avanti Con questa roba qua Prego Prego Netflix Continuate Continuate ad ignorare Però ci hanno messo Dei disclaimer Grossi Così Ho scritto I personaggi Nella serie Non sono reali Tutto quello che succede È inventato Bla 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 Per Mitigare Un po' La situazione Però vi dico Ragazzi Che è super Porcelloso Non si vede nulla Diciamocelo Non è che si vede Il sesso A parte che Il protagonista Non ne fa di sesso Perché È tutto Lasciato All'immaginazione Perché poi Lui è innamorato E quindi Con le altre ragazze Seppure Bacia la coscia Lecca un orecchio Alla fine Non ci fa niente Perché Farebbe l'amore Soltanto con la sua fidanzata Quindi tu non vedi Mai nulla In realtà Però è tutto Porcelloso Vedi Bei culi Belle tette Bei piedini Tutte queste cose qua Disegnate proprio Bene 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 E quindi Da guardare Secondo me Hanno fatto un ottimo lavoro Non hanno sbagliato un colpo Miracolosamente Anche il doppiaggio italiano È perfetto Tutto giusto Finisce anche in un momento Molto denso Della storia Almeno della prima parte Perché ti lascia con la voglia Di scoprire che cosa accadrà dopo Solo che lo sapremo a dicembre A che volume Arriva Sta parte Dell'anime Anche se non so Quanto potrà servirti Devo dire la verità Se non ti serve a un cazzo Al volume 5 L'anime Arriva Nemmeno tutto In realtà A A metà Del volume 5 Sì Grazie a tutti